Una questione di giustizia. Detto questo, cara Barbara, da casa. Purtroppo quello che denunciavate da anni si sta puntualmente realizzando, a tutti i livelli in ogni categoria. Oggi per gli ultras, domani per tutta la città. Riflettete, gente, riflettete. È vero, dieci anni fa voi facevate questi striscioni, dicevate guardate che ora tocca a noi, ma domani c'è tutto quello che si prova sulla nostra pelle e poi verrà portato nella società civile. Però vi davano dei pazzi. Vi davano dei pazzi in tante occasioni, però avete avuto ragione su tutto. Sì, sono dei pazzi praticamente su tutto. Anche sul pronostico che lo stadio sarebbe diventato questo. Alla fine siete stati lungimiranti. Sì, purtroppo direi che abbiamo avuto ragione. Non c'è nessuna gioia, nessun vanto nel fatto di aver ragione. Però purtroppo era così. E forse era nei primi anni 2000 che c'era la possibilità di arginare questa escalation. Adesso è un po' difficile. Adesso è un po'... Adesso siamo andati un po' oltre ed è un po' difficile rimediare. Adesso bisogna addirittura combattere per delle cose che sono talmente, per principi sanciti dalla Costituzione. Bisogna combattere anche per quello adesso. A proposito di ingiustizie, noi abbiamo già parlato più volte della questione dei ragazzi di tifosi della Lazio. Alcuni di loro sono ancora detenuti in Polonia ed è una vicenda veramente assurda. Peraltro io ho avuto modo di leggere poi la notifica che è stata consegnata a qualcuno di loro e la persona, il soggetto indicato, è accusato di avere intenzionalmente turbato l'ordine pubblico levando un grido forte con l'uso delle parolacce e spargendo bottiglie. In polacco? No, no. Uno dei laziali? Sì, ma dico, le parolacce? Le parolacce in polacco, non lo so. Si intuva dal tono. Ora però, io non lo so, se hanno sparso delle bottiglie per terra, le avranno abbandonate lì, avranno bevuto, le avranno abbandonate lì. Non si fa, buttatele nei cessini, per l'amor di Dio. Ma arrestare uno perché ha detto parolacce e ha lasciato una bottiglia per terra? Boh, mi sembra sovra. Cioè, li hanno trattati come dei criminali. Avevo letto che erano stati tirati dai sassi. Può essere, se qualcuno ha tirato un sasso risponderà di questo. Ma 20 giorni di carcere, ragazzi, cioè siamo all'assurdo. E la cosa aberrante, io oggi adesso, Barbara ce lo leggerà, ho letto una lettera del COISPI, il sindacato di polizia, che dice, teneteli dentro. Barbara? E il COISPI? COISPI, sì. Sono ancora 14 i supporters imprigionati a Varsavia. Il quotidiano Il Tempo di ieri riportava la lettera sperita dal coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia, COISPI, che a sorpresa si schiera al fianco dei colleghi polacchi e contro i tifosi biancocelesti. Nel documento non si fa distinzione tra colpevoli e innocenti, dando credito all'unico video fornito dalle forze dell'ordine di Varsavia. Gentile comandante, si legge nella lettera firmata dal segretario generale del COISPI, Franco Maccari, vogliamo incoraggiarvi a tenere i tifosi della Lazio in Polonia il più a lungo possibile, in modo che non possano commettere i medesimi reati in Italia nel prossimo futuro. Noi stiamo contro ogni forma di violenza, specialmente quando è in relazione con eventi sportivi, e in particolare nel calcio, dato che riteniamo che lo sport debba essere un momento di festa e aggregazione, un'occasione per sostenere la propria squadra e non una scusa per lasciarsi andare ad ogni forma di violenza. La nostra piena solidarietà e simpatia ai poliziotti polacchi che sono stati assaliti da quei cosiddetti tifosi. Purtroppo nel nostro paese è normale che i tifosi del calcio attacchino le forze di polizia, tanto quanto lo è causare danni al patrimonio pubblico, senza mai pagare per quanto commesso, né andando in prigione né tantomeno rispondendone in solido. Noi del COISPI, uno dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi in Italia, speriamo veramente che le persone arrestate da voi imparino una lezione e ne facciano tesoro per tutta la vita. Una presa di polizione destinata a far discutere, visto che è accertato che non ci siano stati arrestati veri e propri con nessun danno ingente alla città polacca e che giustifichi quasi 200 fermi. Aggiungo solo una cosa, che poi il giornalista del Tempo ha intervistato il segretario del COISPI, che ha confermato tutto e anche ha rincarato la dose. Il COISPI è un sindacato che ha fatto la manifestazione sotto gli uffici del comune, dove lavorava la mamma di Stefano Aldrovandi. Sì, attenzione, sono loro. E c'era Maccari. Federico Aldrovandi. Sì, Federico Aldrovandi, sì. Stefano Acucchi, l'altro che gli è andata male. Sì, sì, erano loro. Comunque, sono quelli che sono stati sotto le finestre della mamma di Federico a fare la manifestazione. Sì. Cioè, sono gli stessi. Per me è allucinante. Io non c'eravamo, non sappiamo che cosa hanno fatto questi ragazzi della Lazio, però non è successo niente. Neanche lui lo sa. Nessuno si è fatto, neanche loro, infatti, non lo sanno neanche loro. Nessuno si è fatto male, non è successo niente di grave. Ma al di là di quello che è successo o meno, un sindacato di polizia italiano con che diritto si prende? Teneteli a più lungo possibile, ma stiamo scherzando. Affinché non facciano danni in Italia, ma che cos'è? Cioè, mi piacerebbe sapere qual è il sistema di Stato che hanno in mente queste persone, perché non credo che abbia molto a che vedere con la democrazia. Infatti, non per caso, è considerato anche all'interno della polizia, un sindacato di estrema destra. Ora, al di là della questione politica, perché... Non mi interessa il tipo di estremismo che ha. Sicuramente è estremista in una maniera vergognosa. Cioè, è addirittura quasi, comunque sia, non so, adesso non mi viene la parola, però cos'è che si dice quando è... Vabbè, mi verrà. Beh, comunque non è da Stato democratico, eh. Sì, 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 sì. Eversivo. Bravo. Eversivo. Ieri, peraltro, i ragazzi della Curva Nord di Brescia hanno fatto una, credo, una manifestazione, adesso non sono ben informata, in una zona della città, esponendo diversi striscioni, per chiedere libertà, appunto, per i tifosi laziali che ancora sono... Il discorso è che le persone che sono in carcere in questo momento, e comunque sia quelli che hanno subito il carcere, delle persone che sono andate a Varsavia a vedere la Lazio, sono prima di tutto dei cittadini italiani. E il fatto è questo, cioè che quindi vanno tutelati, perché esattamente come ci sono... Sappiamo, no? Quando c'è un italiano che è in difficoltà all'estero, si attiva immediatamente l'unità di crisi, e tutto questo... Eh, c'è qua. Ho capito che poi il ministro degli esteri ha attivato, però secondo me già con ritardo, nel senso che io per un paio di giorni ho sentito parlare solo ed esclusivamente del fatto che erano stati arrestati i laziali, quasi che se lo meritassero. Dopo si è cominciato, come al solito, a capire che le colpe erano veramente limitate, e comunque sia non... Non era giustificabile il provvedimento, soprattutto non era giustificabile un provvedimento così esteso, allora molto lentamente e molto timidamente ci si è mossi... Però non ci voglio dire... Conta poco l'Italia, ha dimostrato di contare poco. Si parla sempre di Unione Europea e... Cioè io dico bisogna farsi sentire in queste cose, ma bisogna farsi sentire prepotentemente, e un sindacato di polizia non si può permettere di rilasciare questi comunicati, perché è un comunicato diffamatorio, e comunque sia che se non fosse stato fatto da un sindacato di polizia, avrebbe gli estremi di essere impugnato legalmente. Perché comunque sia non si può parlare così di persone e di fatti di cui non si sa. Ci sono calunnie queste, fino a prova contraria. E soprattutto sono tipo delle libertà che non ci si possono prendere, soprattutto non ci si può prendere chi comunque ha una certa responsabilità, perché in quanto sindacato deve stare attento a quello che dice. Cioè sarebbe come se uno dei sindacati della, non so, di CGL, CGL, mandasse una lettera in cui dicesse, guardate, quell'imprenditore, fatelo pure fuori, che a me non interessa, perché così almeno non licenzia più. È la stessa cosa, e non esiste. Cioè non si permetterebbero mai, per fortuna, di farlo. Questa è la stessa cosa, eppure passa inosservato, perché tanto si tratta di forze dell'ordine, ma forze dell'ordine non sono sopra la legge, sono al servizio della legge. L'ho detto anche l'altra volta, sono al servizio della legge, al servizio del cittadino, non sono sopra. A questi bisognerebbe dire, ma allora, visto che avete detto che in Italia questi reati non vengono mai perseguiti, non si paga mai per queste cose, ma tutti gli esempi di insabbiamenti, quando di mezzo invece ci sono le forze dell'ordine, com'è che li giudichiamo? Sì, noi ne sappiamo qualcosa sulla vicenda di Paolo Scaroni. La vicenda di Paolo Scaroni non ha pagato nessuno, e allora? Cioè qua ci sono dei laziali che stanno pagando per colpe che non hanno commesso, o comunque sia anche se ci fosse qualcuno che ha commesso qualcosa, dei gesti assolutamente, diciamo, o, non so, perseguibili con una multa, o al massimo con il tipo di dire non sei gradito in Polonia. Non perché lo diciamo noi, ma perché lo dicono i fatti, perché ci è stato mostrato quello che è successo. E se la cosa più grave che è successo, come ci hanno detto, sono lanci di sassi, avranno sbagliato, pagheranno per il lancio di sassi, ma per quello. E 20 giorni di galera per il lancio di sassi, con un sindacato di polizia che dice teneteli lì al più lungo possibile, ora io alzo le mani davvero, perché siamo ad un livello incredibile. E a proposito di poliziotti, che quando sono loro sbagliari difficilmente pagano, è della scorsa settimana una notizia che riguarda invece la vicenda di Cucchi. I tre agenti della polizia penitenziaria, Nicola Minichini, Corrado Sant'Antonio e Antonio Domenici, assolti nel processo per la morte di Stefano Cucchi, hanno presentato querela per diffamazione nei confronti di Laria, sorella di Stefano. I tre contestano alla sorella del giovane, è morto quattro anni fa durante il ricovero all'ospedale Pertini di Roma, una settimana dopo il suo arresto. Alcune dichiarazioni rese al TG3 Lazio e su un blog del Luffington Post. Va bene, dai. Ora questo, oltre ad aver perso il fratello... Un paese dove si muore quando si è nelle mani della forza dell'ordine è un paese inassettabile. È inassettabile. Nel momento in cui io sono arrestato, non devo più subire violenza o che. Perché Stefano Cucchi è morto in carcere, Federico Aldrovandi è morto prima di arrivarci, Uva è morto in carcere. Paolo Scaroni non è morto, ma è stato in coma per dei mesi. Ragazzi, quando uno è nelle mani della forza dell'ordine, deve essere tutelato. Certo. Punito se ha sbagliato, ma tutelato ha la sua integrità. Poi non sono tutti così, e noi facciamo sempre il distinguo, perché chiaramente c'è chi indossa la divisa e lo fa con l'onore. Io conosco i poliziotti bravissimi, con cui sono molto amico. Assolutamente, però ci sono persone... Il discorso è che io, o comunque chi è ultra o su è stato ultra, sa bene che generalizzare è un errore. Certo. Il problema è che nel momento... E quindi, cioè, a me le generalizzazioni proprio a tutti i livelli non piacciono, perché comunque sia non sono mai corrispondenti di fatto alla realtà. Però il fatto è che uno stato che si preoccupa di insabbiare, o comunque sia di dare una certa immunità e impunità, di fatto alimenta le generalizzazioni. Certo. È proprio, è proprio, diciamo, cioè lo stato pulito fa chiarezza sulla vicenda, perché l'istituzione è pulita. L'istituzione che invece si preoccupa di tutelare al di là della legge i propri membri, si presta delle generalizzazioni, non c'è niente da fare. È così. Barbara, da qua. La storia d'Italia è piena di questi birodi. dalla tragedia d'attenzione in giù, dagli anni 70 in avanti, l'instabbiamento è stato uno sport nazionale delle autorità. Le stragie erano di Stato, cioè, per parlare di cose grandi e serie, e non di un sasso. Ognuno dovrebbe assumersi la responsabilità dei gesti che compie, a partire soprattutto da chi rappresenta lo Stato, perché questo sarebbe sicuramente, ridarebbe fiducia nell'istituzione e nelle forze dell'ordine, perché oggi soprattutto i giovani, molti non hanno molta fiducia nelle forze dell'ordine ed è sbagliato. Dovremmo tornare ad averne, però, perché questo accada, bisogna che anche loro paghino quando sbagliano, perché il fatto di indossare una divisa non li rende immuni da errori. Sono comunque persone umane che possono sbagliare. È stato dimostrato che a volte sbagliano, quando sbagliano, anche loro devono assumersi la responsabilità, come succede per tutti. Poi non deve essere una caccia all'uomo, non bisogna per forza prendersela con tutti, perché dicevamo prima, c'è chi fa il poliziotto con grande onore e va assolutamente rispettato perché fa un lavoro molto delicato, importante, per certi versi sicuramente difficile, non per tutti, perché c'è la squadra tifoseria che segue i tifosi allo Stato, ora non è che rischia così tanto, però c'è chi invece indossa la divisa e lo fa proprio rischio e pericolo e tanti hanno perso la vita per indossare la divisa. Però è giusto che quando loro sbagliano, anche loro paghino per l'errore che hanno fatto, in proporzione né più né meno. Da casa. Sarebbe bello se il sindacato dei poliziotti condannasse anche i loro colleghi che hanno ammazzato più di un innocente ed hanno preso condanne ridicole. Siamo proprio in buone mani, Samiron Cadelle. Giusto. Sempre col Brescia, ma sempre contro Gino. Togliamo questi maledetti, ingiusti d'aspo, giustizia per Paolo e grandi 1911. Beppe? E credo che i d'aspo non li tolga nessuno a meno che si vinca a ricorso che poi i ragazzi, io non anticipo nulla, ma nell'incontro poi ci spiegheranno bene anche come funziona il ricorso e quanto costa anche in termini proprio di denaro perché non è una passeggiata. Ora i ragazzi oltre a subire una condanna, a scontare una condanna prima ancora di essere stati condannati definitivamente, devono anche sborsare non pochi soldi per cercare di difendersi. Il costo di quel ricorso fa pensare che tipo sia proprio il prezzo sia stato fissato ad arte per disincentivare il ricorso. Esatto, così uno dice non ce la faccio. Allora, mi fermo. Prima si parlava dell'assurdità della testa del tifoso, io ho visto che in Brescia sabato ho giocato a Modena, sono andata a pescare un Modena-Brescia del 7 dicembre 2003, esattamente dieci anni fa. Era tutta un'altra cosa, la curva del Modena era piena, il settore ospiti era pieno e l'atmosfera era tutta diversa. Dopo la pubblicità.